L'ex scuola di Vallera non diventerà una sede per laboratori pomeridiani a favore dei bimbi autistici, nemmeno un circolo per pensionati o ancora un centro aggregativo come proposto negli ultimi anni. L'edificio comunale nella frazione, le cui aule sono vuote dal 2017, resta a disposizione dei circoli didattici interessati a farne richiesta. Lo dice a chiare lettere l'assessore al patrimonio Erika Opizzi in risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Non a caso, il Comune ha speso 70.000 euro per i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. A causa dell'emergenza sanitaria, spiega l'assessore Opizzi, i dirigenti scolastici hanno avanzato richieste di nuovi spazi. Essendo quella di Vallera ancora formalmente una scuola, visto che il relativo codice meccanografico è tuttora esistente e la sezione è stata trasferita, l'amministrazione ha ritenuto di tenerla a disposizione per il circolo che ne farà richiesta. Perciò il Comune provvede a sistemare la struttura, conclude Opizzi. Nelle scorse settimane l'associazione Piacenza in Blu aveva proposto di realizzare un polo di attività ludica per ragazzi disabili nell'ex scuola di Vallera. Niente da fare, la Giunta Barbieri ha altri piani, la struttura resta a disposizione del mondo didattico.